Dimenticare il brutto KO subito in Coppa Italia ma proseguire la striscia di risultati positivi in campionato. Il Civitavecchia torna in campo a pochi giorni dalla pesante battuta d'arresto del mercoledì di Coppa, costata l'eliminazione dalla competizione per mano della V3 Maccarese che ha vinto per 2-1. I nerazzurri domani saranno di scena sul campo della Lewis nella gara che avrà inizio alle ore 11. La notizia positiva per l'11 di Scudieri arriva dalla gara giocata appena sei giorni fa quando Altamagnini è arrivato il successo per 1-0 sulla capolista Pomezia. Serviranno a tutti i costi altri tre punti per continuare a sognare l'unico obiettivo stagionale rimasto, rientrare in corsa per i primi posti della classifica e quindi puntare alla Serie D. Non sarà una gara facile quella di domani per diversi fattori, intanto da non sottovalutare la squadra allenata da Guglielmo Stendardo, ex giocatore tra le altre di Lazio e Atalanta, che in rosa ha un altro elemento, che ha giocato in Serie A come il difensore di Akite, che ha solo tre punti di ritardo proprio dai civitavecchiesi ed è reduce dal bel successo contro il Valmontone. Inoltre, in trasferta il Civitavecchia ha finora raccolto molto poco con un solo successo in sette gare disputate fuori dalle mura amiche. Ovviamente non è tutto negativo per Serpieri e compagni, che hanno le armi per battere la Lewis, una di queste risponde al nome di Manuel Vittorini, che torna dopo la squalifica di Coppa. Intanto i Nerazzurri hanno ufficializzato l'ultimo colpo. Si tratta dell'esperto difensore Fabio Pompei, che proviene dallo Stiamare. Il classe 87 sarà già a disposizione di Scudieri per la gara di domani e potrebbe anche partire dal primo minuto.